Siamo in contatto dal 249, questa sera un compleanno speciale, non cambiate canale! Siamo in contatto dal 249, questa sera un compleanno speciale! Siamo in contatto dal 249, questa sera un compleanno speciale, non cambiate canale! Un grosso, grossissimo augurio, un augurio speciale da tutto lo staff di contatto, dalla nostra ribellissima Rossella! Marinella, Rossella e Nina, le Charlie's Angel abbiamo stasera! Tu sei il nostro Charlie! Stasera abbiamo tutto qua, guarda cosa devo sopportare! Ma io le adoro, le amo queste ragazze! Allora, noi vogliamo sentire il tuo ringraziamento per tutti coloro che sono qui stasera per te! Allora, innanzitutto ringrazio lo staff di Nick Paino, ringrazio Armando, ringrazio te Rossella che sei stupenda, ringrazio Anna, ringrazio Marinella, ringrazio tutti voi! Ma soprattutto ringrazio perché siete, per me una famiglia, non è che state qua perché è il mio compleanno, siete proprio la mia famiglia, vi voglio proprio bene, vi amo! Soprattutto anche con una scalzone di Nick, posso dire solo contatto television number one, ma non solo per le donne che lavorano con voi e soprattutto per Armando, ecco, che sta sempre a lavorare! Armando, lo sai che ti voglio bene? Perfetto, noi ci salutiamo allora e lo facciamo come sempre alla maniera nostra, il nostro saluto Porta Fortuna! Ciao, contatto! Non poteva mancare all'appello per questa serata il nostro Max Bellocchio, il mitico, ciao! Ciao Anna, ciao! Come mancare alla festa di compleanno di Michele 249, non potevo! Anche perché qui si mangia, si beve, mi tolgono la mano da Annetta, ma Annetta è una sorella per me! Io amo le mie sorelle! E' un fratello, c'è il mio fratellone Max! Eccolo, 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 auguri! Auguri, sta arrivando! Eccolo! Buonasera a tutti ragazzi, buonasera! Sei emozionato per tutte queste persone che sono qui stasera per te? Sono emozionato soprattutto perché ci sei tu Anna, quando vedo te mi emoziono tantissimo! Guarda, non ti dico che ti amo perché altrimenti Nicola si ingerosisce, ma quasi! Ti ringrazio perché è la stessa cosa, Edem, è tale! In genere quando non ci sei tu, dici sempre la stessa cosa a me, ah ma che sei tu, mi emoziono, mi piace! Vabbè, comunque, auguri Michele, Michele è lui, 249, disco, pub, ristorante, fate tutto qui! Vi aspettiamo, contatto! Venite tra i numeri uno, contatto! Veramente tanti, tanti ospiti speciali questa sera per il compleanno di Michele, anche te, Gennaro Iezzo, ciao! Ciao! Non si poteva mancare al compleanno di Michele, che è un fratello, è un grandissimo mio amico e mi ha fatto veramente piacere stare qua con tantissimi amici! Sì, assolutamente perché quando si è con Michele penso che ci si sente come a casa, a casa propria, con la propria famiglia! Hai ragione, Michele è un grandissimo sotto questo punto di vista e invitiamo tutti quanti a venire a trovare perché si sta veramente bene! E ci facciamo tanti, tanti auguri! Augurissimi Michele, ciao! E stiamo in contatto! Con lei che lo sopporta 365 giorni senza uno di riposo è lei, la bellissima, la stupenda, la rosaria di tutti noi, la mamma un po' di tutti noi, l'amica di tutti noi e soprattutto l'amica di Michele! Prima di tutto, che moglie! Amore, auguri! Quanto è dolce! Noi vi salutiamo per questo istante e non cambiate canale, mi raccomando, restiamo in contatto! Contatto! Questa sera due Anna al prezzo di uno! Buonasera a tutti, signore e signori, benvenuti in questo 249 alla mitica festa del signor Michele con la sua famiglia e i suoi amici del cuore! Noi auguriamo tutta la felicità di questo mondo e tutto ciò che il suo cuore desidera! Tanti auguroni, tesoro! Bacetti a te, ad Anna, la mia splendida amichezza e a tutti voi i contattini! Ciao contatto! Tanti, tanti ospiti questa sera per il super compleanno del nostro Michele! Anche Antonio, ciao! Ciao, buonasera! Ciao contatto! Facciamo gli auguri al nostro Michele! Tanti auguri a Michele, al 249, il nostro mitico amico che è sempre presente e noi siamo sempre qui presenti con contatto! Non possiamo non esserlo e che fare? Restiamo in... Contatto! Insieme alla mia, dolcissima, bellissima, il mio sole, Alessia! Sempre gentile ovviamente la nostra Anna! Ma io ti adoro! Io ti adoro! Tanto! Vabbè, comunque volevo fare tantissimi auguri al mio papà con un forte bacio! Ciao contatto! Allora, per un giorno così speciale dovevo fare un augurio speciale per una persona speciale! Io sono di poche parole ma ecco mi faccio intendere bene! Augurissimi Michele! Auguri Michele! Auguri Michele! Auguri Michele! Auguri Michele! Auguri Michele! Auguri Michele! Michele, auguri! Auguri Michele, ciao contatto! Auguri Michele! Ti abbiamo fatto gli auguri abbiamo inquadrato tutti tutti gli invitati qui alla tua festa ma adesso dobbiamo parlare di una cosa importante ragazzi ma quali 47 anni chi l'ha detto a me sembra un ventenne un ventunenne al massimo se fossimo in America lui oggi sarebbe maggiorenne ventunanni grazie grazie ma io direi che lui è un altro del club i Peter Pan Forever è lui Michele Peter Pan eccolo qua Michele Pan io direi Peter lo aggiungo io dai ragazzi noi vi invitiamo come al solito a venire qui al 249 stasera stiamo festeggiando magistralmente il complesso di Michele ecco ecco guarda che arriva guarda il dei non cambiate canale perché tra pochissimo ci sarà una persona veramente importante venuta qui per fare gli auguri al nostro Michele no no Nick non parliamo ancora più importante lo diciamo allora lo diciamo lo anticipiamo 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 dai Nick dillo tu dillo dillo c'è la nostra amica Fioretta che è venuta da Roma proprio per fare gli auguri a Michele Fioretta Mari e allora ci vediamo tra pochissimo restate con noi restate sempre in contatto 249 Michele buonasera salve grazie mille buonasera a voi siamo qua per questa grande uomo questo è il primo regalo poi arrivano quelli importanti guarda leggi questo forse c'era amico vero sei una grande Fioretta ma io penso Michele che il primo regalo sia lei innanzitutto innanzitutto un onore avere qui a casa mia una grande signora americana importantissima buonanissima happy birthday congratulations quanti ospiti questa sera Manuela la conosco bellissimo buonasera auguri grazie noi abbiamo varie sorprese per te abbiamo rischiato la vita per arrivare qua sappilo un altro regalo Michele un altro lo apriamo qui in diretta lo apriamo lo apriamo dobbiamo poi intervenire su questo regalo perché c'è un dobbiamo fare un segno per ricordargli una cosa ecco che si scarta amici in anteprima che bello lo facciamo vedere eccolo qui che bello un applauso grazie 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 a tutti voi grazie questo però non ci mettiamo le pile così non cammina per ricordare che il tempo con lui non passa mai perché è un eterno Peter Pan è un eterno per mai uccidere Peter Pan che sta in noi ci becchiamo dopo non cambiate i canali sempre più al 249 noi in contatto contatto ed è arrivato proprio ora anche lui Lello ciao ciao amici ciao a tutti non potevo mancare a fare gli auguri al nostro Michele facciamo un grosso grosso augurio a Michele che si dice sempre in questi casi non vorrei essere retorico tanti tanti auguri per tutto quello che desideri cosa ti viene in mente quando pensi a Michele fammi sentire allegria e familiarità brava brava sì è vero allegria e familiarità è quella torta che è sul tavolo assolutamente infatti adesso la raggiungiamo per restate lì non cambiate canali restiamo in contatto contatto ciao amici siamo giunti al momento della torta Michele augurissimi auguri quanti ne sono? 47 ma non sono 47 reali non sono 47 reali perché io all'interno di me ho 20 anni soprattutto vedendo tutte queste persone qua che mi accolgono veramente con amore quindi vuol dire che mi amate all'interno di me non sono grande ti amiamo tutti auguri ok diciamo che te lo meriti perché sei una delle persone più buone che abbia mai conosciuto per cui se stasera siamo qui è perché ti vogliamo bene ti ringrazio applauso auguri il mio desiderio è quello là di stare sempre tutti insieme ma non è per egoismo è quello là di vedere sempre i miei figli che godono di ottima salute ok e questo è quello più grande senza salute non esiste nulla quando vedo dei ragazzi belli giovani sani che si lamentano perché il papà non gli ha comprato il cellulare vanno in crisi si mettono in un angolo io li prendo a schiaffi e se li meritano se li meritano la felicità la felicità è veramente avere figli che stanno bene e che ti dicono papà ti vogliamo bene me lo dicono tutti i giorni che bello si vede che te lo meriti ed ecco lo stapo della bottiglia si festeggia qui al 249 auguri Michele grazie grazie giungiamo al termine di questa strepitosa serata per il compleanno di Michele qui al 249 vi ricordo che per riguardare tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito www.contattotelevision.it o aggiungeteci sulla nostra pagina facebook o contattotelevision Napoli o ancora sui nostri canali del digitale terrestre 603 e 693 da Nina Gentile è veramente tutto io vi saluto e vi ricordo di restare in contatto